La polizia di Caltanissetta ha eseguito nove misure cautelari emessi dal GIP su richiesta della procura nell'ambito dell'operazione Fake Scar, che ha smantellato un'organizzazione che avrebbe riciclato autoveicoli acquistati attraverso truffe ai danni di società finanziarie provenienti da furti. Cinque dei nuovi indagati sono indiziati a vario titolo di aver promosso, costituito e partecipato l'associazione per delinquere che operava tra il territorio campano e siciliano. I reati contestati sono quelli di falsetà materiale connessa dal privato in atti pubblici, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, truffa, ricettazione e riciclaggio. Due di loro sono finiti in carcere, tre ai domiciliari. Gli altri quattro indagati interessati dal provvedimento cautelare sono sottoposti all'obbligo della firma. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile e dalla postrada. Sono stati individuati complessivamente 54 veicoli di provenienza illecita rivenduti a ignari cittadini per un valore complessivo di oltre un milione di euro. Gli acquirenti hanno subito anche il sequestro delle vetture. I veicoli individuati durante le indagini sono tutti circolanti in diverse regioni italiane in quasi tutte le province siciliane. Il pubblici ministeri, oltre a richiedere l'applicazione delle misure cautelari personali, hanno richiesto al GIP di disporre il sequestro preventivo di nove autovetture del valore complessivo di 200 mila euro. La questura ha anche allegato alle fotografie di due degli indagati, che sono Eugenio Amico e Michele Giarratana, al fine di individuare altre persone offese vittime della truffa, considerando che i due indagati hanno più volte utilizzato documenti falsi per stipulare i relativi contratti.